Pochi giorni fa c'è stato l'anniversario della scomparsa di Gigi Proietti che ci ha lasciato l'anno scorso e qualche giorno. Ti va di farci un ricordo di Gigi che anche lui era un grandissimo tifoso della Roma? Gigi non è che l'abbia frequentato tantissimo, io lo trovavo spesso a casa di amici che facevano una cena e quindi ogni volta che c'era lui era sempre una bella serata perché stava zitto tutto il tempo, poi nel finale quando tutti i commensari poi si ammosciavano che avevano parlato entrava in campo lui, entrava in campo lui con i suoi racconti soprattutto con le sue deliziose barzellette perché la bellezza del barzellette di Gigi Proietti era nei tempi di come le recitava, era veramente fantastico e poi al barzellette che non si sono mai sentite, sembrava quasi che le avessi inventate lui per come erano raccontate, era una persona molto generosa, molto buona e in una delle ultime volte che ci siamo visti ci siamo detti ma una cosa la dobbiamo fare dai cavolo, siamo due romani, amiamo questa città, dobbiamo inventare, prima facciamola dai frequentiamoci un po' di più, va bene Gigi, comunque finisco purtroppo poi non c'è stato tempo, mi è dispiaciuto tanto perché era, Alberto Sordi mi diceva che per lui dal punto di vista teatrale Gigi Proietti era superiore a tutti, Sordi mi disse è un uomo con una presenza che nessuno ha, con una mimica che nessuno ha, l'ha detto Alberto Sordi ci crediamo insomma, assolutamente, perché il discorso era nato perché io amavo molto Petrolini e Sordi non amava Petrolini, questa cosa mi fece arrabbiare, dico ma come non ami Petrolini, in fin dei conti poi Proietti è un po' parente in qualche maniera di Petrolini, l'ha studiato molto Petrolini, l'ha fatto anche diverse volte, Gastoni, Salamini, le cose, Fortunello, però niente, Sordi lo detestava e io invece lo difendevo a morte, allora dov'è che ci trovavamo d'accordo? Era sulla figura e la statura di Gigi Proietti, quindi un bel ricordo, bellissimo, di un amico e di un grande attore che ha dato veramente lustro alla città, ma ha fatto veramente sempre teatro e monologhi di altissimo livello. Grazie mille Carlo, ricordiamo l'appuntamento quindi dal 5 novembre, vita da Carlo su Prime Video, è stata presentata l'altra festa del cinema di Roma, un successo cramoroso, hai fatto un sacco di selfie, strano perché di solito non li fai i selfie, non si vede nella serie. Grazie mille, a presto. Mi renderete conto che cos'è la vita di Carlo, mi renderete conto. A presto, ciao.